Nel corso dell'assemblea abbiamo visto che guardava attentamente il bilancio della cooperativa Alfaggio, però è un bilancio che non sono solamente dati e numeri, è qualche cosa di più questa cooperativa. Infatti non guardavo i numeri, guardavo con una certa attenzione la relazione, perché nella relazione secondo me c'è l'anima di una scelta dell'azienda. Quindi leggevo la governance, leggevo la mutualità, credo che questi siano gli elementi su cui forse, al di là di leggere un bilancio in positivo, credo che è il modello che poi è una relazione di un bilancio da un'azienda. Il sindaco ricordava come il sistema di assistenza e di accoglienza in questa città è un vanto per l'intera città. No, sì, io sono qui oggi proprio per credo che sia giusto riconoscerlo, riconoscerlo non solo nei servizi che offrite, che offre il faggio, ma sicuramente nel rapporto che c'è tra la città e una cooperativa. Questo credo che sia importante, con il sentirla propria nelle scelte e anche poi nelle modalità con cui quell'esperienza si vive nella città. Qualcuno ha detto oggi qui si vede un bel clima. Sì, vabbè, c'è sempre stato. Il clima di lavoratori è sempre un clima bello, laddove tanti lavoratori stanno insieme, il decino del proprio futuro credo che sia il modello che dovremo perseguire.